Ho proprio ragione, ogni giorno che passa il sindaco Melucci ne fa una nuova, una peggiore politicamente parlando. È nato il nuovo comitato organizzatore per i giochi del Mediterraneo e nel nuovo consiglio direttivo, in quota appunto al comune di Taranto, il sindaco Melucci ha indicato la persona di niente poco di meno che, udite udite, l'onorevole Michele Pelillo, il ritorno di Pelillo. Un soggetto che diciamo politicamente era finito, è stato politicamente riesumato prima con la nomina come commissario per il costruendo, l'erigendo ospedale San Cataldo e ora nominato nel consiglio direttivo del nuovo comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. Guardate, Pelillo è un soggetto, lo sanno tutti, che non è gradito alla città di Taranto perché riceve continue critiche, è un soggetto appunto che è in viso ai Tarantini. Politicamente nel corso di tutta la sua carriera politica tra consiglio regionale e Parlamento, ditemi voi quali sono i risultati del suo operato, ma non solo, un modo proprio sprezzante di porsi nei confronti dei cittadini, nei confronti della questione dell'ambiente, della questione ex ilva e quello che diceva l'ilva non inquina più, pensate un po'. E quindi davanti a questo soggetto che irrideva, offendeva l'associazione di Matacchiera, il fondo antidioscina Onlus, definendolo il club di Topolino, quindi un soggetto che non ha portato nulla dal punto di vista politico al territorio, che ha un atteggiamento dicevo molto ma molto sprezzante, cosa si fa? Lo si premia, lo si premia e lo si mette in questo direttivo, in questo consiglio direttivo. Ovviamente il buon Pelillo, buon per lui, percepirà un'altra indennità, perché qui di indennità in indennità, tutto lecito per carità, ma io dico caro Melucci, è vero che tu anche tu sei politicamente finito, ma renditi conto, a Taranto abbiamo tante professionalità, abbiamo tanti professionisti, abbiamo tanti giovani, preparati, capaci, con master, con specializzazioni, ma è mai possibile che dovevamo riesumare politicamente Pelillo? Ma in questa città devono sempre girare e rigirare sempre gli stessi nomi? Ma perché non dare spazio al nuovo? E vedete, questo è il centro-sinistra, ma il centro-destra è simile al centro-sinistra, perché poi c'è sempre un gioco di nomine, sempre delle stesse persone, che magari transitano dal centro-destra al centro-sinistro, dal centro-sinistra al centro-destra. Ecco perché, giusto, questa è una mia riflessione che faccio questa mattina, va creata per Taranto una forza politica nuova, trasversale, visto che siamo stanchi di questi teatrini, di queste commedie del centro-destra e del centro-sinistra, ma chiusa questa, anche perché lo stesso Melucci si sta avvicinando affitto al centro-destra, quindi vi fa capire questo, cosa accade a Taranto e non solo a Taranto in Italia, ma la nomina di Pelillo davvero è avvilente, dal punto di vista politico è avvilente, come se Taranto non abbia soggetti diversi, migliori, di Michele Pelillo. Vorrei poi saperci qual è l'utile politico di Melucci nell'insistere con Michele Pelillo. Lo scopriremo solo vivendo.